Buongiorno signora, cosa desidera? Posso dare solo un sguardo? Certo. Come se lo sente? Come se lo sente? Vorrei una short struttura, quale colore mi consiglia? Gialla. Sembra fantastico, fantastico. Che talla porta? Porto la talla piccola. Si, si, si. Desidera cosa altra? Vorrei una maglia mezzo colore. Taglia piccola. Colore blu marino. Me le fa vedere per favore? Si. Quanto costa? Sono 50 euro in totale. Pago... Pago con contanti. Ah, si. Ecco le sue magliette. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.